Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie come si usano gli strumenti di Excel Professionale, i tutorial che mostrano come sono fatti e come si utilizzano gli strumenti che metto a disposizione. E in questo video vediamo come si usa il mini magazzino di Excel Professionale. Quello che stai guardando è il mini magazzino di Excel Professionale. È un piccolo gestionare di magazzino realizzato con gli strumenti di Excel e un pizzico di automazione. Ma in realtà l'automazione non sarebbe neppure necessaria. Ho aggiunto un poco di automazione per rendere più comodo l'uso e l'esperienza di utilizzo appunto di impiego di questo strumento. Vediamo ora come è fatto questo gestionale. Quello che stai guardando è il pannello di controllo dell'intero foglio, dell'intero file. Fondamentalmente se attiverai l'automazione la utilizzerai. Ebbene questa è la prima pagina che vedrai quando apri il file. Ok? E fondamentalmente è un pannello di comando standard, una serie di pulsanti collegati tramite collegamenti per testuali alle altre pagine e sono quelli blu scuro. Ti vedi magazzino, clicco sul magazzino e naturalmente saltiamo al foglio relativo che è il foglio magazzino. Ok? Torniamo indietro. Ebbene i pulsanti blu collegano ai diversi fogli, invece i due pulsanti blu chiaro in fondo non sono nient'altro che pulsanti collegati a dell'automazione. Il pulsante di sinistra aggiorna l'intero foglio, quindi se lo clicchiamo questo andrà ad aggiornare tutte le tabelle e tutti gli strumenti di elaborazione. E invece quello di destra non fa nient'altro che salvare ed uscire. E il pulsante istruzioni, il pulsante istruzioni non fa nient'altro che far comparire questa scheda nascosta con le istruzioni relative appunto ai comandi del pannello di controllo ma anche a indicazioni generali sull'utilizzo del foglio. Ok? Come puoi vedere qui in basso come usare il gestionale. Io naturalmente ti invito a leggere le istruzioni presenti in questa scheda e in generale le istruzioni dell'intero gestionale. Ok? Prima di utilizzarlo. Quando inizi a prendere familiarità ebbene leggi tutte le istruzioni e naturalmente usa i controlli. Prova a usare i controlli. Allora andiamo a vedere come è composto il resto del gestionale, cioè cosa contengono gli altri fogli che sono presenti all'interno di questo file. Ebbene utilizziamo naturalmente i pulsanti, clicchiamo su magazzino. Il magazzino non è nient'altro che una tabella che mostra le giacenze di magazzino. Ti faccio notare che le giacenze sono riportate con l'indicazione della posizione. Ok? Nel senso che questo magazzino ti permette di registrare la mappa del tuo magazzino con le diverse locazioni, posizioni eccetera eccetera in modo da poter imputare a una posizione specifica i prodotti che verranno stoccati. Ok? E questa visualizzazione non è una pagina in cui inserire i dati. Semplicemente prendi i dati dalle altre pagine. Dove si inseriscono i dati? Ebbene si inseriscono nelle pagine seguenti. In particolare nella pagina di carico e nella pagina di scarico. Ok? Nella pagina di carico è necessario inserire i momenti di carico magazzino. Quindi andare a inserire la data di arrivo, la data di carico dei prodotti se necessario, se sono distinte, altrimenti naturalmente tu puoi compilare soltanto i campi che ti interessano. Ok? Ma quelli principali necessari sono una data, o meglio la data di arrivo, il prodotto, la quantità e se vuoi utilizzare la posizione anche la posizione. Naturalmente la posizione come puoi vedere è selezionabile da un elenco a discesa realizzato con la convalida, ok? Che io ho aperto utilizzando i tasti. Se tieni premuto alt e poi premi freccia giù, ebbene si aprirà naturalmente il menu presente all'interno della cella. E poi naturalmente altre indicazioni relative all'ordine, per esempio, è la data dell'ordine e al documento, quindi al DDT eventualmente, se hai acquistato e ti sono stati consegnati i materiali, naturalmente è la data del documento stesso. Ebbene, i dati fondamentali sono questi, cioè è da questi dati che tu vai a inserire in questa pagina e naturalmente ai dati della pagina di scarico, e quindi cliccando su scarico passiamo naturalmente alla pagina dove devono essere registrati i dati di scarico, che fondamentalmente vengono estratti e visualizzati il magazzino, quindi le giacenze a magazzino per posizione, e naturalmente tutto il resto. Le giacenze, questo è una sintesi, quindi che ti mostra l'elenco di quelli che sono i prodotti a magazzino con le quantità relative, quindi non indica la posizione, ma indica fondamentalmente i prodotti che sono giacenti, ok? E visto che stiamo parlando di locazioni, posizioni a magazzino, ebbene forse è opportuno che ti mostri cosa intendo per posizioni dove si trova la mappa del magazzino. Bene, torniamo indietro, clicchiamo sul pannello di controllo e poi andiamo a cliccare mappa magazzino. Naturalmente passiamo al foglio relativo, locazioni del magazzino, dove trovi una tabella, una semplice tabella che mostra, anzi contiene le coordinate o meglio le specifiche di ogni singola locazione, ok? Quindi se hai un magazzino classico a scaffalatura e se hai cinque scaffalature, ok? Ogni scaffalatura ha cinque ripiani e ogni ripiano può essere diviso in una serie di slot e di posizioni, ebbene poi, anzi devi, dovresti indicarlo all'interno di questa tabella. Naturalmente puoi anche evitare di farlo, nel senso che se non vuoi sapere dove sono stoccati a magazzino i tuoi materiali, perché utilizzi un altro strumento o un'altra modalità di gestione, ebbene puoi evitare di mappare il tuo magazzino e semplicemente cancellare tutte le righe superfluo e lasciare semplicemente una riga con sopra scritto magazzino, ok? Ebbene questo ti eviterà di andare a inserire correttamente sia nel carico che nello scarico le posizioni, ma d'altra parte non ti aiuterà se hai un magazzino significativo, perché è un magazzino piccolo, naturalmente ciò che cerchi lo troverai molto facilmente, ma se hai un magazzino di una certa dimensione, ebbene ti invito a utilizzare la mappa delle locazioni e naturalmente a inserire correttamente tutte le locazioni che utilizzerai nello stoccaggio dei tuoi prodotti. E visto che stiamo parlando di prodotti, ebbene passiamo alle pagine che servono per inserire l'anagrafica dei prodotti e per poterla consultare. Clicco su pannello di controllo, ok? Inserisci i prodotti e quello che stai guardando è l'anagrafica dei prodotti. In questa tabella devono essere inseriti i dati dei prodotti, e quando intendo i dati intendo le caratteristiche dei prodotti. A partire dalla descrizione del prodotto, per esempio prova, come vedi la tabella si apre in automatico e tutti gli strumenti di elaborazione collegati a questa tabella naturalmente verranno aggiornati di conseguenza e ti mostreranno l'articolo prova naturalmente se verrà movimentato, se verrà visualizzato eccetera eccetera. Naturalmente puoi andare a inserire anche le categorie relative, come vedi c'è un menu a tendina, le sottocategorie e naturalmente il codice articolo del fornitore e il fornitore. E anche il fornitore naturalmente può essere selezionato dal menu a tendina, ok? Comunque fondamentale è la compilazione dell'anagrafica dei prodotti. Fondamentale perché? Perché rende più comodo la registrazione dei movimenti di carico e scarico e perché ti permette anche di poter riordinare i prodotti in modo più semplice e poterli individuare in modo sicuro, ok? Quindi fondamentalmente io ti invito a compilare correttamente i dati di questa tabella, questa anagrafica, comprensivi anche dei dati relativi al riordino se vorrai utilizzare il foglio dei riordini che è presente in questo gestionario. Quindi le quantità a cui scatta il riordino o fondamentalmente diciamo la giacenza minima che tu vuoi tenere a magazzino piuttosto che le quantità minime che deve riordinare, i tempi di riordino e poi hai la possibilità in realtà in questa tabella di andare a registrare i riordini, quindi se è ordinato il materiale per ripristinare la giacenza magazzino, quindi puoi andare a indicare sì per esempio e a indicare le quantità, per esempio la quantità 50 e la data di consegna prevista. Questo naturalmente ti aiuterà nella gestione dei riordini, ok? Naturalmente devi essere tu a decidere come e quando inserire questi dati. Se è all'arrivo del prodotto, ok? Quindi con il DDT, se hai comprato qualcosa di nuovo andare a inserire prima del movimento andare a inserire i dati relativi alla grafica, ai prodotti, ok? Piuttosto che al momento del riordino stesso, dell'ordine praticamente dei materiali che naturalmente stoccherai a magazzino. E visto che abbiamo parlato di fornitori passiamo naturalmente al foglio alla grafica dei fornitori. Lo possiamo fare anche da qui cliccando sul pulsante fornitori. Come vedi siamo passati al foglio lista fornitori dove c'è una piccola tabella con una mini anagrafica dei fornitori. Naturalmente ti invito a compilare e tenere aggiornata anche la lista dei fornitori. Questa anagrafica ti sarà utile in primo luogo perché ti permetterà di avere l'elenco dei fornitori nelle altre tabelle, ok? Quindi ci semplifica la vita nell'inserimento dei dati, nelle fogli di inserimento che abbiamo visto. Ma anche perché in questo modo avrai i riferimenti principali se hai bisogno per esempio di contattare il fornitore in caso praticamente non so che la consegna, mostri delle differenze e quindi le quantità sono differenti piuttosto che prodotti eccetera eccetera, hai la possibilità di consultare il telefono, l'email eccetera, eventualmente ricordare gli accordi tramite note relative al fornitore, sospese o altre cose ancora, ok? Quindi ti invito a compilare e tenere aggiornata anche questa tabella. Ebbene le tabelle di inserimento quindi fondamentalmente quali sono? Sono 5, sono la tabella di carico e scarico quindi questa e questa, ok? Poi naturalmente l'anagrafica dei prodotti questa, ok? E l'anagrafica dei fornitori e la mappa del magazzino. E in realtà l'ordine di compilazione dovrebbe essere l'inverso. Ti invito prima a compilare le locazioni del magazzino, poi andare a caricare l'anagrafica dei fornitori che è questa, ok? Per poi andare a caricare l'anagrafica dei prodotti che è questa e infine naturalmente andare a inserire nel carico e lo scarico i movimenti del magazzino, quindi i carichi e i prelevi, ok? Il gestionale è finito qui? Naturalmente no, naturalmente il gestionale ha altre funzionalità e come avrai già notato ebbene c'è una pagina dedicata alla ricerca dei prodotti, questa, che non è una pagina di inserimento ma mostra i dati o meglio alcuni dei dati che sono stati inseriti nella grafica dei prodotti. Quindi questa tabella e i relativi controlli sono collegati alla tabella dove hai inserito i dati relativi appunto ai prodotti. Cosa serve questa pagina e questa tabella? Fondamentalmente per tenere sotto controllo i prodotti che stai gestendo a magazzino e quindi poter fare delle ricerche diciamo per categoria, quindi andare a vedere le categorie per comprendere praticamente quali sono i prodotti che hai gestito e stai gestendo a magazzino con le eventuali giacenze. Qui c'è un valore di giacenza che è preso naturalmente dalle giacenze vere e proprie, ok? Non solo in realtà ma ti permette di andare a individuare, fare delle ricerche per fornitore per capire quali sono i prodotti che stiamo gestendo per uno specifico fornitore. Ma in realtà se vuoi un'analisi almeno basilare di quelle che sono le giacenze, ebbene io ti invito a consultare il report relativo. Quindi se torniamo in più controllo, ok, e poi andiamo a cliccare su analisi giacenze, ebbene passiamo al piccolo report che è stato impostato all'interno del gestionale. E come vedi è un report classico, un report con delle tabelle a sinistra, i grafici che visualizzano i dati e i parametri principali al centro e a destra i controlli per eventualmente approfondire, quindi filtrare i dati visualizzati, in nostro caso per categoria, sottocategoria e fornitore. Quindi puoi vedere praticamente quali sono le giacenze per fornitore, piuttosto che andare a vedere le giacenze per categoria e per sottocategoria. E naturalmente come puoi vedere gli ultimi grafici mostrano il valore dei prodotti principali stoccati a magazzino, ok? Appunto per darti un'idea precisa e quindi tenere sotto controllo le tue giacenze, ok? Ok. Questo report naturalmente è ampliabile liberamente, io ti invito ad aggiungere tutti i grafici delle tabelle che ti servono, ok? Semplicemente anche andando a copiare le pv che sono qui presenti e a naturalmente duplicare i grafici che sono stati già predisposti, ok? Ok. Questa è la pagina dei riordini e la tabella che stiamo guardando non è entrato che l'elenco degli articoli che devono essere riordinati. Come viene popolata questa tabella? Bene, in questa tabella noi vedremo naturalmente dopo aver cliccato su aggiorna, il pulsante qui sulla destra è un pizzico di automazione che puoi utilizzare naturalmente per aggiornare questa tabella, ma in realtà potresti utilizzare anche il comando che trovi qui nel menu contestuale, vedi aggiorna, piuttosto che il comando che trovi nella scheda dati, aggiorna tutti, che aggiorna sostanzialmente tutti gli strumenti di elaborazione, ok? Ok. Questa tabella viene popolata di quei prodotti, di quegli articoli che nella grafica dei prodotti che abbiamo visti in precedenza hanno una giacenza inferiore alla quantità di riordino. Torniamo nella grafica dei prodotti, clicco su prodotti, ebbene tra i vari parametri inseribili c'è quantità riordino, quantità riordino è diciamo così la quantità di sicurezza al di sotto della quale sarebbe opportuno fare un riordino, questo per evitare una rottura di stock, cioè di rimanere senza i prodotti che ti servono appunto per la tua attività o che vengono richiesti dai clienti, ok? Quindi questa quantità naturalmente la decidi tu, la gestisci tu, anche in relazione magari a una piccola analisi, l'hai ottenuta tramite un'analisi di quella che è per esempio la media mobile nel tempo, considerando la stagione oppure no, eccetera eccetera. Comunque è una quantità minima, ok? Quando le giacenze scendono al di sotto di questa quantità, ebbene compare questa voce da riordinare e i record da riordinare, come vedi 1, 2, 3, sono fondamentalmente i record che troviamo nella pagina dei riordini, torniamo nei riordini ebbene sono qui articolo 3, articolo 10 e prova che è il nuovo, ok? E sostanzialmente questa tabella mostra quali sono le giacenze, quali sono i costi indicati naturalmente, qual è la quantità minima da riordinare e se sono già stati riordinati, qual è la quantità che è stata riordinata, ok? 75,50 non è la quantità di riordine, riordinati, e la quantità che è stata riordinata. E quindi sostanzialmente questa serve a gestire i tuoi riordini, se ne hai bisogno naturalmente, puoi anche non utilizzarla. Quindi se dovrai riordinare qualcosa, questo ti indicherà che deve essere riordinato e se registrerai correttamente i riordini che vengono fatti, ti dirà anche quali riordini sono stati fatti, per quali prodotti, eccetera eccetera, ok? In realtà è una soluzione semplice ed efficace per tenere sotto controllo i tuoi riordini, ok? Questo se non hai altri strumenti e altre modalità che appunto ti facilitano la vita nella gestione dei tuoi riordini, ok? Quindi riassumendo, come si prepara lo strumento al primo utilizzo? Ebbene naturalmente dovrai compilare la mappa delle locazioni di magazzino, l'anagrafica dei fornitori e naturalmente l'anagrafica dei prodotti andando a impostare, se sei interessato all'utilizzo della funzionalità dei riordini, anche i parametri relativi, ok? Ok. Come si usa lo strumento? Bene, fondamentalmente non devi fare nient'altro che registrare tutti i movimenti relativi al tuo magazzino, quindi i carichi nella pagina di carico e i prelievi nella pagina di scarico. Tutte le altre pagine verranno aggiornate di conseguenza. Per chi è stato fatto e a chi può interessare questo strumento? Bene, è stato pensato per piccole attività, per chi ha bisogno di gestire un piccolo magazzino con non troppi prodotti, ok? Non troppo fornitori e voglia avere anche magari una mano per la gestione dei riordini. Questo è un piccolo strumento, in realtà è già stato scaricato migliaia di copie e viene utilizzato da piccole attività commerciali, ma anche non, ok? Che lo utilizzano appunto per la gestione dei loro piccoli magazzini. Io naturalmente ti invito a utilizzarlo, ma se tu hai un magazzino significativo e un'ora di prodotti rilevanti, ti invito a utilizzare strumenti più professionali, ok? Per esempio puoi considerare e valutare il magazzino pronto che trovi tra gli strumenti di Excel professionali sul sito, ok? Vai sul sito, trovi la pagina strumenti in alto, ok? E naturalmente tra gli strumenti troverai anche il gestionale di magazzino. Se non è sufficiente, puoi sempre chiedermi di realizzare uno strumento su misura per te, ok? Per i tuoi bisogni. È uno degli strumenti più richiesti in assoluto dai miei clienti. Puoi personalizzare questo strumento? Naturalmente sì, però i risultati dipendono da te. Mi spiego meglio. Dipendono dalle tue competenze. In realtà in questo strumento sono stati utilizzati anche funzioni più avanzate, come le query e quindi fondamentalmente andare ad alterare, a modificare alcune delle tabelle diciamo che sono presenti qui nel gestionale ebbene può comportare la necessità di modificare, di intervenire anche sulle query che sono collegate, ok? Che quindi alimentano delle tabelle come per esempio quella dei riordini o quella delle esigenze, mi pare, eccetera. E quindi naturalmente io ti invito a provare. Fai una copia del magazzino se lo stai già utilizzando, naturalmente fai le modifiche e vedi i risultati, ok? Questo tutorial termina qui e naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.